Musulmani di Treviso contro il ministro Alfano sull'espulsione del loro imam dalla moschea di via Pisa. Decisi a ricorrere contro il provvedimento che ha mandato in Marocco la 33enne guida spirituale per non aver giurato sulla Costituzione italiana ed aver tenuto sermoni sempre più integralisti. Noi abbiamo visto che a livello della magistratura, il Consiglio dei Soprimi di Magistratura hanno dichiarato che questi provvedimenti erano anticonstituzionali. Il mediatore culturale simbolo con Abdallah Khazagi della prima immigrazione e dell'inserimento nella comunità trevigiana è l'unico ad esprimersi fuori dalla moschea lungo la strada ovest. Sotto al palazzone dalle mille contraddizioni arrivano la spicciolata infedeli per la preghiera del venerdì e non desiderano essere ripresi dentro la moschea, un tempo a redazione televisiva locale. Il loro pensiero lo spiega Conti con queste parole. Ha sbagliato perché lui non vedo quanto una persona convive da 18 anni con la Costituzione italiana. È una cosa fatta dall'uomo per l'uomo, per la convivenza civile e non le hanno chiesto di giurare sulla Bibbia o sul Vangelo. La condanna però per i musulmani di Treviso è troppo pesante. Lui so che agli dieci anni di permesso civile si poteva ridurlo come fanno con altri a solo due anni. Del resto, sottolinea la comunità musulmana, c'è chi con i simboli dell'Italia si è comportato in maniera ben peggiore e continua a stare in Parlamento. Questa espulsione non venga strumentalizzata dalla parte della politica come sta accadendo a Treviso dalla parte della Lega che sta facendo pressioni su Manildo ma non penso che Manildo sia stupido per cedere. Io penso che tutti questi richiami della Lega non sono fatti perché la Lega ama questo paese. Erano i primi a mandare la bandiera e la Costituzione italiana al cesso.